È lei? Sì. La dottoressa Wolf. Da oggi lavorerà con noi. Viene da Berlino. Hai ricevuto il denaro. Devi renderlo impermeabile. Ha fatto una gita. Non dovrebbe stare così sulle sue. Ma che cosa ci fa lei in provincia? Controlla che nessuno stia sulle sue? Non tornerà più. Barbara, non mi lasciare sola. Non andare via.